ciao ragazzi sabato sono stato alla kawasaki dirt arena la pista di fara nuovarese una pista vecchio stile che si snoda all'interno della collina e le condizioni della vista erano un pochettino complicate c'erano buona parte della pista molto secca e scivolosa e altri punti allagati dove si formavano dei grossi canali in alcuni punti sentivo toccare sotto il telaio talmente erano profondi canali e mi piangeva un po il cuore comunque è stato un ottimo allenamento ricordatevi di mettermi un mi piace o iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.